Amici di Arcoiris, benvenuti a leggere negli occhi la rubrica cura dell'Associazione Scrittori di Bologna. L'intervista di oggi la inizia con un po' di scuse, infatti ho ramazzato un po' di voce dal fondo del torace, cercherò di renderla intelligibile. L'ospite di oggi è un po' particolare per me perché a seguire il fatto che questa intervista è curata, la rubrica intera dall'Associazione Scrittori di Bologna, Giampiero Rigosin è uno dei fondatori di questa associazione, quindi è ancora una presenza speciale, importante per me oggi. Giampiero è uno scrittore professionista, ha pubblicato per Inao di Stile Libero qualche anno fa, Notturno Busche, quel libro che l'ha un po' lanciato a grande livello nel panorama letterario nazionale, ma non veniva da altre esperienze di scrittura molto importanti, precedenti che l'avevano fatto esordire con molto interesse da parte dei critici ma anche del pubblico. È stato sempre etichettato come uno scrittore di noir e in qualche modo si è sempre cimentato in questo tipo di scrittura, ma il romanzo suo, ultimo che è uscito e che guiderà la nostra conversazione di oggi, questo L'ora dell'incontro, ancora uscito per i tipi di Einao di Stile Libero, è uno scarto notevole rispetto alle sue precedenti produzioni. Chiediamo come al solito al nostro ospite, a Giampiero, di introdurci all'ambiente emotivo, alle motivazioni del suo libro così insolito per la sua normale produzione. Che cosa incontra chi entra nell'ora dell'incontro? Gli incontri in realtà sono tanti, c'è un appuntamento che aspetta credo ognuno dei personaggi del romanzo, ognuno dei protagonisti che sono comunque tanti e in principal modo le due protagoniste che sono tutte e due donne, Clara e Laura, che vivono entrambe un momento molto particolare della loro esistenza e quindi hanno un appuntamento, entrambe hanno un appuntamento molto importante che le aspetta con altro da sé, ma anche con se stessa. Il primo passo che volevo fare in questa intervista forse è quasi ovvio, ma credo che sia necessario per chi già ti conosce e ti ha sempre seguito nelle tue produzioni precedenti. Come mai? Sappiamo che gli editori amano molto in scatolare gli autori in quadri ben precisi e in strutture quasi rigide di modo da poterli indirizzare sempre in una collana o nell'altra senza troppe variazioni. Non amano troppo le variazioni gli editori. Come mai hai voluto uscire? Qual è l'esigenza che ti ha spinto a uscire un po' da questa scatola del noir nel quale sei stato riconosciuto nelle tue prime produzioni? Ma la scrittura fondamentalmente. Cioè avevo voglia di raccontare una storia e questa storia non coincideva, ammesso che ci siano poi dei confini del genere noir. Sicuramente sono dei confini abbastanza precisi, anche se col tempo si sono anche quelli resi più elastici e un po' più confusi per il giallo, il poliziesco, il romanzo di indagini, diciamo, di detection. Per il noir, a mio parere, è molto più difficile trovare delle coordinate, come dici tu, un recinto, una scatola. Però è vero anche che normalmente un lettore che va nel reparto, nella libreria, cercando nel reparto gialli, thriller, noir, polizieschi, trova un po' tutto, paradossalmente molto spesso trova anche quest'ultimo mio romanzo. Vero, è vero. Posso certificare che in libreria è spesso infilata negli angoletti del noir. Sicuramente il romanzo non lo è, o perlomeno, come qualcuno ha detto, forse è un noir esistenziale, un noir dell'anima, non ci sono morti ammazzati, non c'è nessuna indagine, qualcosa di misterioso c'è, ma Raymond Carver diceva che una certa dose di mistero fa bene a qualsiasi tipo di racconto, quindi questa è l'unica parentela. Io avevo voglia di scrivere una storia e ho scritto questa storia, poi l'editore, nel momento in cui se l'è trovata in mano, l'ha letta e gli è piaciuta e ha deciso di pubblicarlo. Senti, ancora prima di immergerci nell'atmosfera del romanzo, ancora una domanda di tipo più generale. Il tuo è un romanzo di quasi 500 pagine e in una intervista su carta che ho letto, fatta a te, mi risulta che hai cominciato a scriverlo addirittura dieci anni fa, citavi il 1997 come anno in cui è partita la prima idea del romanzo. Ecco, ha un significato tutto questo che ci si mette a dieci anni a pubblicare un romanzo, è una fine, è un inizio, è qualcosa che hai concluso e che difficilmente potrà rientrare nei tuoi tasti narrativi, perché un impegno che dura dieci anni e da forza a un romanzo così corposo sembra quasi una conclusione. È una conclusione, anche per entrare poi nel laboratorio dello scrittore per il quale ti vorrei fare molte domande. Ma per me ogni romanzo è una conclusione, indipendentemente dal tempo che ci si mette. Non sono mai riuscito a pensare in termini di serialità per quanto riguarda i romanzi. È un mondo nel quale entro, un universo proprio addirittura, popolato da personaggi. E io prima di cominciare a scrivere, anche se in realtà di questo processo fa già parte la scrittura, perché quando parliamo del 1997, credo che sia proprio qui dietro, io a tutti i tacuini, il primo appunto su questa vicenda è targato nel 1997 nei miei tacuini, quindi i primi file che ho iniziato a scrivere. Il processo di esplorazione di questo mondo, quindi dei personaggi, che all'inizio sono solo ombre, un po' sfuggenti, fanno qualcosa, hanno un gesto, incontrano qualcuno appunto, io spesso le prime cose che metto a fuoco sono gli appuntamenti, a cui i personaggi non dovranno mancare. Quindi quelli sono un po' gli snodi fondamentali. che inizio a conoscere e poi ho bisogno di conoscere i personaggi. Ci metto molto tempo, è un limite mio. Prima di scrivere un romanzo ho bisogno di conoscere bene i personaggi che si muovono all'interno del romanzo. E quindi una volta che li ho conosciuti, una volta che parto invece nella esplorazione di quello che gli accade, della loro storia, degli loro incontri, delle tensioni che si creano tra di loro, o che si sciolgono tra di loro, il romanzo cresce, arriva alla fine e per me è sempre un termine. Quei personaggi lì, di quei personaggi ho raccontato quello che mi interessava raccontare. Esco dal loro mondo e li lascio, ma soprattutto dovrei dire che loro lasciano andare via me. Ci metto molto a volte perché attraverso dei periodi di sconforto mi insabbio, come credo capiti un po' a tutti, non so più bene l'orientamento, non so più bene forse la storia che volevo raccontare qual è. E quindi quello che mi spinge ad andare avanti sono loro, i personaggi che ho conosciuto, nel cui mondo sono entrato, che vengono un po' a tirarmi per i piedi come i fantasmi, a dire no, adesso ci devi raccontare, devi raccontare la nostra storia. E quando ho finito, di solito mi lasciano in pace, non tornano più a darmi fastidio, a venirmi a trovare, quindi per me è una conclusione. Ecco, benissimo, abbiamo cominciato a capire come lavora Giampiero Rigosi, siamo entrati nel suo laboratorio. L'appuntamento di cui parlavi tra i personaggi, ovviamente è l'ora dell'incontro, si chiama al libro, quindi è un'ottima indicazione. Ecco, parliamo dei personaggi, entriamo più in particolare nel romanzo, che è un romanzo profondissimo, intrigante, è un argomento molto forte di cui parleremo dopo. Ecco, in realtà chi parla maggiormente nel tuo romanzo sono donne. È un romanzo di donne. e gli uomini sono anzi delle figure un po', sono un po' delle persone di bassa lega, forse un po' al musicista Paolo, uno dei, il fratello di una delle protagoniste, cerca, ha una vita interiore tormentosa, ma soprattutto i grandi protagonisti, chi mostra forza, curiosità, ricerca, sono tutti protagonisti femminili. Come sei riuscito, come ti sei trovato per, per elaborare questo mondo femminile così forte, importante, duro, sembra quasi che parli di cose o di persone che hai conosciuto di persona, perché c'è un approfondimento nell'indagine anche interiore, che fa clara di se stessa, con una sensibilità che in un autore maschile non è facile trovare. parli di donne in una maniera di, in una maniera molto profonda, ecco che gli uomini sono leggermente più superficiali nel tratteggiare i personaggi femminili. Sì, questo credo che sia uno dei motivi che mi ha spinto a raccontare questa storia, l'esplorazione di, non del mondo femminile, dell'universo emotivo di questi due personaggi, di Clara e di Laura, che mi incuriosiava molto. È vero, anch'io trovo che spesso la scrittura, stranamente, la scrittura al femminile ha un modo suo di esplorare il mondo femminile, uno specchio che si guarda dentro in maniera a volte molto profonda e io credo che si riesca ad individuare un certo tipo di scrittura femminile. La scrittura maschile a volte tratteggia in maniera più superficiale. Io ho sempre ammirato tantissimo gli scrittori uomini, io appartengo geneticamente a questa categoria, gli scrittori uomini che invece avevano una capacità di raccontare il mondo anche dal punto di vista femminile. Non so, penso Tolstoi, che è uno degli autori che io in generale amo di più, e che ha questo, pur essendo un autore estremamente virile, parla di guerra, ha un rapporto anche lui stesso, credo come autore, molto epico e virile con la terra, con il materiale narrativo che tratta, però ha anche invece un occhio estremamente acuto, profondo sui personaggi femminili. E ho sempre ammirato tanto questo, un po' forse questo romanzo era una specie di scommessa con me stesso, di tentativo di entrare in questo mondo che mi affascina e mi incuriosisce, sempre molto misterioso, proprio perché io appartengo come i protagonisti del mio romanzo, invece al mondo maschile, che secondo me non solo dal punto di vista della scrittura, ma anche dal punto di vista psicologico e emotivo, è più superficiale. E quindi è come se un personaggio bidimensionale cercasse di entrare nella tridimensionalità, oppure per noi che viviamo nel mondo tridimensionale entrare nella quarta dimensione, cioè una dimensione che comunque intravedi, ne intuisci l'esistenza, ma è veramente difficile entrarci dentro. È venuto fuori Tolstoi, che potremmo dire che il tuo è un romanzo tolstoiano, però mi hai fatto venire in mente un'altra domanda un po' che inerisce a quello che abbiamo detto all'inizio di questa conversazione. La necessità di, se vuoi, inscatolare un romanzo in un genere, lo potremmo definire un romanzo psicologico? Sì, direi che è un romanzo anche psicologico. Una psicologia ovviamente romanzesca, non inventata, per romanzesco non intendo inventato. Intendo che il romanzo ha un suo metodo di indagine psicologica, che non è quello ovviamente scientifico, né psichiatrico, né psicanalitico, però sì, senz'altro il romanzo in generale credo che sia un... Il romanzo nasce prima della messa a fuoco della psicologia come scienza, dell'invenzione addirittura, se così si può dire, ma evidentemente è un grande mezzo di indagine psicologica. Ecco, forse il romanzo che tra i primi che lo hanno praticato come strumento di comunicazione c'è stato Goethe, è fondamentalmente un romanzo psicologico, è un'elaborazione di un mondo interiore che forse non si rifà solo all'epifenomeno, ma cerca di andare in profondità. Questo è un po' una novità, è un ritorno al passato, ma secondo me è una novità quando siamo stati abituati ad una letteratura molto più di fatti, di cose, di descrizioni. E' questo che credo sia uno dei principali pregi del tuo libro, per chi ama la lettura non troppo dégagé, non troppo lontana dai problemi reali della vita delle persone. E' una novità di cui io, cioè non so se è una novità, adesso dire che è una novità mi fa piacere, ma non lo credo del tutto, non credo che sia così isolato il fenomeno. Un ritorno del passato preso come novità in un mondo che come aspetto è molto più superficiale. Sì, nella narrativa italiana dei nostri giorni è quasi una novità, non credo di essere l'unico che la pratica, però è una novità di cui io personalmente sento molto l'esigenza. Adesso sembra quasi, come dicevi prima, io sono visto, letto, spesso, ho scritto di fatto romanzi che appartengono in un qualche modo al genere, anche se non solo, però forse vent'anni fa la narrativa italiana aveva bisogno di raccontare delle storie, cioè di riappropriarsi di questa componente fondamentale della narrazione, cioè del raccontare storie. Poi forse credo che sia successo un po' una strana inversione di, cioè non inversione, un'esagerazione in questo senso, e c'è un proliferare di storie, un proliferare a volte di storie che però diventano quasi solo portatrici di se stesse e non di altro. Quello che io cerco di fare con questo romanzo, ma in questo senso non è una conclusione, credo che continuerò, se continuerò a scrivere e se mi daranno modo di pubblicare, a fare, è cercare di raccontare delle storie che non siano solo portatrici di se stesse. Io credo che l'Italia, in questo senso, è molto diversa dalla narrativa anglosassana, dall'Inghilterra, dall'America, dove invece ci sono grandissimi narratori che non scrivono genere, raccontano storie, però storie che sono comunque un'esplorazione delle motività della psicologia dell'uomo, ma così come della società, insomma, non sono solo fini a se stesse. Ecco, in questo vi assicuro, cari amici di Arcoiris, che Giampiero è riuscito a far collimare una delle principali esigenze di chi scrive e non vuole annoiare a parlare dei mondi interiori e delle loro manifestazioni in maniera estremamente equilibrata e giusta e interessante. Ahimè, devo ammettere anch'io che americani e inglesi trovano sempre qualche scrittore che ci coinvolge e stravolge riuscendo a far collimare la originalità, la bellezza di storie con la profondità di quello di cui vogliono raccontare. Se scriverò ancora, se gli editori mi vorranno pubblicare, benissimo, ma Giampiero è uno scrittore sul serio e quindi ha esplorato più forme e quindi sempre per parlare del laboratorio dello scrittore vorrei che tu ci raccontassi anche qualcosa del tuo rapporto col cinema perché ormai è diventato, penso, una delle parti più importanti del tuo lavoro. È un 50% quello tra narrativa e cinema ti prende sempre di più la scrittura forse un po' meccanica più spezzata a grandi pezzi che poi sono da montare del cinema piuttosto che la fluency, il desiderio di fare calore con la narrativa. La mia attività è divisa tra quella di sceneggiatore e quella di scrittore. Il cinema in realtà sta un po' in mezzo tra la narrativa, il romanzo e la televisione che forse è quella che assomiglia di più a questo aspetto che dici tu per forza di cose per la rapidità con cui i progetti debbono essere portati a termine che appartiene molto meno alla narrativa e ecco anche in questo una via di mezzo il cinema ha dei tempi comunque più lunghi della televisione e la televisione si decide il palinsesto della stagione successiva e quindi vanno conclusi certi almeno in fase di scrittura cadenze molto precise un obbligo anche di guidare la storia in certe direzioni esatto e in questo c'è effettivamente una parte di meccanicità anche se io cerco sempre di evitarla cerco sempre fino adesso mi sono divertito fare televisione proprio perché ho sempre cercato di imparare facendola e di evitare di farla di mestiere solo i cliché i luoghi comuni di questo mestiere se possibile anche se alla fine in certi casi ti viene quasi richiesto o comunque viene convogliato poi il processo di scrittura televisiva appartiene all'autore in maniera abbastanza non dico minima però insomma fa parte di un processo in cui gli autori sono tanti in cui c'è un rapporto con una produzione con una rete che poi manderà in onda e quindi con degli stori editor di rete è un processo complesso in cui l'autore fa del suo meglio la sua parte fa la sua parte e poi nel cinema questa rete di rapporti è più semplificata ci sono meno persone che lavorano al progetto i tempi sono più lunghi o comunque ci si prende il tempo di cui c'è bisogno per fare bene le cose io fino adesso poi di progetti a cui ho collaborato e che sono arrivati in fondo cioè sugli schermi cinematografici ce ne sono due uno con Roberto Faenza prendimi l'anima e uno tratto dal mio romanzo Notturno Bus e quindi in questo caso l'esperienza è abbastanza limitata e trovo che sia una via di mezzo tra i due modi di lavorare devo dire che quello dello sceneggiatore cinematografico e televisivo è un lavoro che mi piace molto mi interessa mi piace moltissimo il cinema da sempre quindi lo faccio volentieri e mi permette anche di scrivere però deludendo le aspettative magari iniziali dell'editore e del libraio che vuole collocare un nuovo noir nel reparto giù nella casella giusta con i lettori già pronti per leggere quello e visto che io non campo solo di quello mi permetto di scrivere le storie che mi pare insomma Notturno Bus 2 il ritorno non credo che potrà essere sugli scaffali troppo presto e neanche forse troppo tardi senti hai citato proprio Prendimi l'anima il film di Roberto Faenza che è un film complesso e che io ho amato moltissimo al di là del fatto che secondo me nelle sue regie Faenza sia abbastanza discontinuo questo è uno dei film che ho amato di più per complessità per anche emozione per emotività che riusciva a suscitare e soprattutto perché parlava di uno dei miei miti di lettore che è Jung credo che sia una delle letture più divertenti che possa fare uno che ama leggere ecco tu hai già in parte risposto alla mia domanda ma mi piace ancora arrotare il mio coltello su queste definizioni un film come Prendimi l'anima che si basa su un personaggio così complesso e interessante come Jung e i gialli per la tv adesso so che stai lavorando alla nuova serie di Cogliandro assieme a Lucarelli così sei più tu quando parli di un personaggio intrigante profondo come Jung o sei comunque ugualmente tu anche se sei costretto a scrivere di un inseguimento in macchina o di una fuga o di una sparatoria ma guarda non lo so credo di essere io in entrambi i casi a me io sono sempre stato un lettore onnivoro fin da piccolino ho divorato i polizieschi prima i noir subito dopo da 13-14 anni in poi e ho letto un po' di tutto nella mia vita e mi diverto ancora a leggere a guardare film di ogni genere quindi credo che mi appartengono entrambe le anime è curioso che io abbia conosciuto Faenza perché mi ha chiamato a Roma perché volevo opzionare Notturno Bus per farci un film quindi come vedi la vita supera di gran lunga è strano non sta cosa mi ha chiamato gli ho detto purtroppo il film è già opzionato da un'altra produzione e lui ha detto ah guarda sto pensando da dieci anni a un progetto di raccontare in realtà poi lui voleva raccontare Sabina Spirra ancora più che noi infatti una cosa che ci ha accomunato forse in questo progetto è stato anche il sollevare una figura femminile per me è stata una sorta di palestra per il romanzo che già avevo in mente e quasi abbassare o comunque umanizzare un pilastro così no una figura anche geniale si poteva fare a geografia iperbole su Jung cosa che avete perfettamente evitato l'avete umanizzato reso terreno esatto l'abbiamo visto più nel suo aspetto emotivo sentimentale in relazione con questa figura che era veramente anche lei gigantesca no per quanto controversa e quindi visto nell'aspetto meno consueto in cui si poteva vedere questo gigante però ecco la conoscenza è venuta attraverso invece un romanzo che comunque apparteneva al genere e che a Faenza che pur ama il genere tra l'altro e ha fatto anche dei film di genere era piaciuto molto e quindi con lui ho lavorato a questo film che è andato in porto e nel quale ho messo molte delle cose che comunque mi piacciono quando lui ha scoperto che avevo letto molto Jung è stato molto felice quindi di coinvolgermi in questo progetto e poi ho lavorato invece a un progetto che non è andato in porto che era un film ambientato a Cuba tratto da un romanzo di Cruz Smith quello di Gorky Park che era Havana Bay quindi un giallo ambientato a Cuba sempre con lui avrebbe fatto la regia di questo film pensa un po' veramente l'intreccio delle possibilità per chi scrive è infinito ma naturalmente vorrei prima di concludere la nostra conversazione parlare ancora un attimo del tuo romanzo perché se lo merita e credo sia doveroso soprattutto in una rubrica come la nostra prettamente letteraria e poi sono anche un medico quindi l'interesse è raddoppiato in questo caso come mai e mi hai fatto anche da consulente mi hai fatto anche da consulente come i poliziotti chiedono fanno consulenti per le procedure poliziesche io almeno sulle procedure mediche ti ho dato volentieri una mano ecco ma dopo questo intermezzo su cinema e tv come mai un romanzo incentrato sulla malattia perché la malattia che sia fisica o esistenziale è il vero protagonista di questo romanzo è il tramite per una elevazione o per una degradazione ma è comunque un protagonista con la P maiuscola da dove è venuta questa tua spinta ad avere un protagonista così ingombrante doloroso faticoso perché una persona come Clara deve addirittura aggiungere alla simulazione pur di ottenere quello che per lei è uno scatto avanti esistenziale ma adesso provo a rispondere senza fare troppe anche se è difficile perché dietro c'è questa riflessione per me allora in generale trovo che ci sia un tentativo di fuga che però paradossalmente è molto necrofilo molto funerario dalla malattia dalla morte dai momenti oscuri dell'esistenza questa fuga è evidentissima nella televisione in tutto quello che ci viene propinato dalla televisione ma è credo molto compenetrato in tutto il nostro modo di essere e di esistere la manipolazione del corpo nel tentativo di apparire sempre più giovani più sani è estesa la nostra esistenza in generale quello che invece è ovviamente una tentazione sempre costante dire questo lato la malattia la morte la depressione sono aspetti che vanno fuggiti vanno tenuti lontani io credo nella mia vita di aver imparato tantissimo invece proprio da queste cose qua da questi momenti qui dai momenti di momenti della malattia come dici tu esistenziale la malinconia in forme più o meno forti e dalla malattia fisica e quando ho smesso di fuggire ma invece ho ascoltato queste cose qua mi sono reso conto che c'era che il mio corpo la mia mente il mio animo cercavano di parlarmi di parlare a me che invece ero in costante fuga da questi aspetti apparentemente per stare meglio ma in realtà ecco credo che la malattia la malinconia la morte siano aspetti assolutamente compenetrati nella vita quindi dico qualcosa di molto banale però di qualcosa che invece costantemente ci spaventa ci infastidisce che ci provoca disagio allora i percorsi di queste due donne che sono un poco quasi simmetrici speculari al contrario una sta bene ma sta bene fisicamente ma sta male dentro e per scoprire quanto potrebbe stare meglio ha bisogno di fingere di stare male ha bisogno di questo percorso di discesa nella malattia addirittura finta simulata l'altra è una donna che vive sulla propria pelle invece una malattia reale che però le fa scoprire un altro aspetto di se stessa addirittura entusiasmante per quanto doloroso e faticoso da accettare ecco volevo raccontare questa cosa qua volevo raccontare delle vite nelle quali in un modo o nell'altro non si può fuggire da questo aspetto e addirittura attraverso questo aspetto che per me non è la faccia negativa ma è assolutamente compenetrato intrinseco intrecciato con gli aspetti più solari e più vitali che sono evidentemente più facili da individuare volevo raccontare questo volevo raccontare delle storie in cui non si può ma non solo è utile è indispensabile è necessario fare i conti con questo aspetto ecco voi potete capire dalla complessità di questa riflessione dall'intreccio di queste difficili vite di due donne come questo sia un romanzo di grande spessore di grande importanza che io caldamente invito tutti a leggere ve lo ricordo l'ora dell'incontro che Gian Piero Rigosi ha pubblicato presso l'editore Einaudi Stile Libero vorrei fare una piccola chiosa a questa ultima tua conversazione proprio in coda a questo tuo ultimo commento importante la medicina è un po' afflitta dallo scientismo cioè dal tentativo di renderla un'ideologia e molto di questo è riferito alla quella che adesso si chiama medicina basata sulle evidenze tutto deve essere rigorosamente dimostrato eccetera che è un ottimo strumento di lavoro per gli medici per carità però c'è un'importantissima variabile che sta prendendo piede nel nostro mestiere che è la medicina basata sulla narrativa che rende assolutamente individuali i pazienti li rende storie a sé che non potranno mai essere incasellate in un rigido strumento di lavoro come quell'altra medicina quindi parlare della malattia oggi nella narrativa è un passo avanti che può essere utile ai lettori agli scrittori ai narratori più in generale e ai medici e ai pazienti quindi abbiamo parlato oggi di un problema forse enorme ma che possiamo risolvere in questo caso leggendo una bellissima storia ringrazio ancora Giampiero ovviamente gli chiedo di firmarmi il libro per la mia prestigiosa collezione e concludiamo con la nostra abituale perla che oggi credo sia abbastanza in linea con quanto abbiamo raccontato finora sull'importanza della scrittura delle mille variabili che riguardano la scrittura e di quanto questa scrittura sia una cosa in cui ci si può immergere anche se si lavora perché Giampiero ci ha dimostrato che si può lavorare alla scrittura per commissione ma viverla fino in fondo comunque la perla di oggi è dedicata a Manuel Puig uno scrittore argentino che è stato molto popolare anche in Italia fino a qualche anno fa adesso forse purtroppo i suoi libri hanno trovato una qualche eclisse anche perché è scomparso Manuel Puig quando scrive è in totale immersione non percepisce nulla questo principalmente perché ha un rapporto ansioso con la pagina bianca e quindi raddoppia l'attenzione rapporto tanto ansioso che non lo sopporta e scrive sempre sul retro di fogli già scritti da altri grazie per l'attenzione al prossimo incontro ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti